Io non ho modo per ripagare la vostra fiducia sul campo, quello che posso assicurarvi è il massimo impegno, sono state tante chiacchiere, ma io dei tifosi come voi sinceramente ho girato anche tanto e non ho mai trovato, questo vi ringrazio di cuore perché quando scendo in campo mi fate sentire parte di voi, grazie, grazie a tutti!